Salve cari amici, benvenuti e bentornati al mio pazzissimo canale Oggi amici vi mostro come fare impazzire il vostro sistema della PS4 Perché dovete fare impazzire il vostro sistema così per divertimento Allora, come fare? Intanto dovete crearvi degli account multipli Che vi spiegherò come fare in un altro video Comunque dovete andare su spegnimento e cambio utente Su cambio utente poi dovete schiacciare sull'altro account che avete creato Poi una volta sul secondo account andate sul terzo account che avete Ovvero per me questo qui Poi una volta questo account Che siete su questo account Cambiate di nuovo account per l'ultima volta E schiacciate questo qui Poi una volta finito di fare tutto questo amici Andate sul vostro account principale Il mio è questo qui E schiacciate su qualsiasi gioco Su qualsiasi gioco che avete E vi dirà che dovete schiacciare qualsiasi pulsante Perché il sistema sarà impazzito Perché avete fatto più accessi con più account Quindi non capirebbe più niente Va bene amici, spero che questo video vi sia piaciuto Nel caso lasciate like e iscrivetevi al canale Il mio telegram è EnzoGamer297-69 Ora mi trovate anche su MemasickTikTok Pubblico video quasi ogni giorno E ne pubblicherò più lì che qui Detto questo Io vi saluto Che cosa vuoi Che cosa vuoi Grazie.